Il treno arriverà con un forte ritardo. Sui diritti dei passeggeri la nostra conoscenza è... Ma adesso... ...piuttosto elementare. Potete chiedere un rimborso alla compagnia di trasporto. Impariamo che quando viaggi hai dei diritti, stabiliti dalle norme europee. In Italia, in caso di mancata tutela, puoi rivolgerti all'autorità di regolazione dei trasporti, che pensa a chi viaggia anche in tempi di pandemia. Ma dov'è l'assistenza? Scusate. Quando viaggi, non sentirti piccolo. Tutela i tuoi diritti. Hai l'autorità per farlo. ART regola il sistema dei trasporti per una mobilità efficiente.